16 anni di reclusione, è questa la pena inflitta dal GUP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli a Peter Polverini. Il 25enne San Giustinese accusato dell'omicidio di Catea Dello Marino, la donna ritrovata senza vita il 12 luglio scorso sul greto del torrente Afra alle porte di Sansepolcro. Speravamo qualcosa meno, questo è innegabile, non è sicuramente una sentenza che grida allo scandalo, per carità, si tratta di un reato molto grave. La sentenza è arrivata nel pomeriggio di oggi a quasi un anno esatto dall'omicidio. Il giudice è partito dal massimo della pena per l'omicidio volontario, 24 anni, poi ridotti di un terzo per il rito abbreviato. Una sangata rispetto alla stessa richiesta del PM Giulia Maggiore che aveva riconfermato nella requisitoria la richiesta di una condanna di 15 anni. Penso che il dottor Ponticelli abbia emesso un giudizio corretto e giusto. Come ho già detto, mi dispiace, resto dispiaciuta che la circostanza aggravante della crudeltà non sia stata mai contestata. Il giudice ha tenuto conto del parziale vizio di mente di Peter Polverini dopo che in mattinata c'era stato uno scontro tra le parti proprio sulle perizie. L'accusa infatti non ha accettato la semi-infermità mentale dell'imputato. Stabiliti dal Tribunale anche i risarcimento per le parti civili, 311.000 euro alla madre di Katia e 120.000 al fratello. In parte liquidato e in parte che praticamente è stata disposta la sede civile come la sede naturale per chiederlo. Adesso la difesa di Peter Polverini attende le motivazioni della sentenza. Parlare di appello ancora è prematuro. Sicuramente mi sembra che ci sia volontà sia da parte dei Polverini, dei familiari ma anche da parte nostra di proporre appello e di ragionare su quello che è stata la condanna per ora l'unico dato certo.